Bella a tutti FortniteArts, benvenuti e bentrovati su LeonTube mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace adesso andiamo a vedere l'incarico degli incarichi storia salta attraverso un cerchio di fuoco durante l'accelerazione ecco il cerchio di fuoco dobbiamo semplicemente accelerare e passarci in mezzo niente di complicato, mi sembra che era già stato fatto e questo incarico qui quindi davvero davvero semplice se il video vi è piaciuto un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti